Bentornati! Ecco a voi un'altra news su Gossip Diva! Elisabetta Gregoraci si sta godendo una splendida vacanza a Lampedusa insieme al fidanzato Giulio Fratini. Immersioni, escursioni in barca e momenti di relax sembrano essere all'ordine del giorno per la coppia. In una recente intervista al settimanale Key, la conduttrice ha confermato di attraversare un periodo di grande serenità in amore, senza però fare passi affrettati verso una famiglia allargata. «Va tutto bene. Da questo punto di vista sono noiosa. È così da due anni», ha dichiarato Elisabetta, sottolineando come la sua relazione e la sua famiglia convivano già in armonia. Tuttavia, le acque non sono completamente tranquille. La rivista Diva e Donna ha recentemente pubblicato delle foto di Elisabetta in compagnia di Alessandro Basciano a Capri. Le immagini mostrano un'affinità notevole tra i due, con momenti di complicità e affetto. In costume intero bianco, la Gregoraci è stata vista avvicinarsi a Basciano, mettendogli un braccio attorno al collo e scambiandosi sorrisi complici. Nonostante i rumor scatenati da queste foto, Elisabetta non ha risposto direttamente alle insinuazioni, ma i suoi commenti sui social lasciano intuire che non abbia apprezzato le speculazioni. Nel cuore di Elisabetta, però, c'è un uomo che occupa un posto speciale, suo figlio Nathan Falco Briatore. «È il mio tutto, il senso della mia vita, la cosa più importante che ho», ha rivelato la conduttrice. Nato 14 anni fa dal matrimonio con Flavio Briatore, Nathan Falco rappresenta il legame più forte nella vita di Elisabetta. Nonostante la fine della relazione con Briatore, tra i due ex coniugi permane un rapporto di grande affetto e rispetto. Condividendo scatti paradisiaci sui social, Elisabetta mostra un fisico perfetto in bikini e la felicità che vive accanto a Giulio Fratini, confermando che tra loro va tutto a gonfie vele. Non perdetevi il nostro video per scoprire di più sui retroscena della sua estate e su come affronta i rumor che circolano intorno alla sua vita privata.